Dottor Moschetta, qual è la genesi di questo libro? Immagino che sia frutto dei suoi studi, dei suoi decennali studi rispetto al metabolismo. Vorrei partire dalla nozione di sindrome metabolica. Che cosa significa? Sì, sindrome metabolica è in realtà, non è una malattia ma è una condizione di rischio. È servita tanto e serve a dire ad un soggetto che pensa di essere in una condizione di salute che in realtà lui è in una fascia di rischio. Per sindrome metabolica si intende la possibilità di avere tre di cinque fattori che poi sono la circonferenza addome, cioè il girovital di sopra di 94 centimetri nell'uomo e di 80 centimetri nella donna, di avere un aumento di trigliceridi, un aumento di glicemia non come diabete ma basta avere 100 di glicemia, un aumento della pressione arteriosa e poi un cambiamento dei livelli di colesterolo. Ecco, basta avere tre di questi movimenti che fino a poco tempo fa venivano considerati nell'ambito della normalità per avere questa sindrome e quindi essere in una fascia di rischio per esempio per alcuni tumori come mammella, prostata o tumori di attratto gastroenterico. Ci sono dei sintomi fisici oltre questi che lei ha elencato che immagino siano asintomatici se non diciamo estetici, ci sono dei sintomi di benessere fisico che dovrebbero diciamo lanciare il campanello d'allarme? Ecco questa è una domanda importante, come lei ha detto questi sono dei segni dei cambiamenti, potrebbero dar luogo a zero sintomi, cioè il soggetto potrebbe non avere alcun sintomo, quindi da un lato poniamo sempre più attenzione ad ascoltare il nostro corpo a vedere se siamo cambiati e se abbiamo dei sintomi. Dall'altro la vera prevenzione, il vero screening è quello di andare a quei soggetti che non hanno sintomi dicendo loro che sono a rischio e che tornando indietro potrebbero avere meno rischio di contrarre malattie. Mi permetto di aggiungere in questo libro parliamo anche dell'idea che qualora il soggetto dovesse incontrare una malattia, essere in questa condizione dismetabolica fa ridurre la capacità dei farmaci di guarire, pensate le donne con tumore della mammella con la circonferenza addome al di sopra di 100 hanno 35% in più di rischio di immortalità rispetto alle altre senza circonferenza addome al di sopra di 100 a parità di farmaci, quindi stare bene in salute non è solo avere meno rischio di malattie ma anche curarsi meglio. Ecco lei in questo libro racconta l'utilità della dieta nella prevenzione e della cura del cancro. A quale tipo di mission, di focus ha voluto porre l'accento in questo libro? Ecco diciamo che l'idea è partita proprio dai dati di cui parlavo poc'anzi, l'idea di essere in uno stato di salute per permettere ai farmaci di funzionare. Siamo partiti di lì per spiegare che c'è sempre un momento per tornare indietro. Il cambio nello stile di vita, nella dieta, nell'esercizio fisico serve per far funzionare le terapie, per avere meno rischio di malattia e c'è sempre un momento per farlo. Il libro cerca di spiegare che in realtà siamo diversi, non c'è una dieta ottimale che vada bene per tutti e uno dei criteri più importanti è la sartorialità, cioè quello che va bene a me non va bene all'altro e questo perché noi alla fine abbiamo un libretto di istruzioni vero e proprio e questo dipende dal DNA dei genitori, cioè quali erano le malattie di mamma e papà, poi dipende dalla loro vita, cosa hanno combinato fino al momento del concepimento, poi dipende anche da noi come siamo nati, se siamo stati allattati al seno, che tipo di batteri abbiamo, come abbiamo mangiato fino a quel momento, insomma al naso di partenza siamo diversi e la scienza ci sta dando sempre di più la strada per poter vincere utilizzando la medicina di precisione e qui ho un inno alla nutrizione di precisione. Parliamo concretamente, qual è il primo step da fare all'ascoltatore che in questo momento magari è dubbioso rispetto alla sua condizione, che cosa deve fare, qual è il primo passo? Ma io direi che anche se sembra veramente una cosa semplice, il primo passo è misurarsi la circofarezza a doma, il giro vita, se il giro vita è al di sopra di quei valori di 94 e di 80 per uomo e donna, allora quello è un primo segno, è un segnale che l'energia che è entrata è di più dell'energia che doveva uscire con esercizio fisico e quindi è un'energia di accumulo, vede madre natura non ci ha dato il grasso nella pancia per farci ammalare, al contrario quel grasso è una modalità per conservare energia e poterla riutilizzare. Questa conservazione poi a lungo termine dà luogo ad infiammazione ad una serie di fenomeni che possono spingere le patologie a crescere più rapidamente, per esempio l'aggressività tumorale attraverso l'infiammazione e tutto quello che è il metabolismo, per cui la prima cosa, misuriamo la circonferenza addome e questo anche per sfatare dei miti, perché se io sono magro, non ho circonferenza addome, non ho accumulo di grasso, probabilmente non ho problemi ad assumere degli alimenti come il latte o come gli zuccheri perché già sono in grado di calibrarli, se al contrario io ho una circonferenza addome o un'obesità addominale devo porre immediatamente attenzione soprattutto agli alimenti raffinati, zuccherini, agli orari in cui li assumo, alla sedentarietà, ad una serie di fenomeni per tornare indietro.